Salve amici, anche oggi realizziamo questo video per far vedere il prodotto a 360 gradi. Stiamo parlando della cassetta per la posta in metallo. Vedete? Realizzo il video in modo tale da poter far vedere proprio l'oggetto per come è fatto. Magari darle foto non rende più di tanto, no? Allora, l'oggetto, direttamente la cassetta è dotata di chiavi, vedete? Abbiamo anche tutte le viti per il fissaggio, ci sono quattro viti per il fissaggio, la cassetta misura, e allora, abbiamo 30 cm in altezza, la parte più alta. Allora, abbiamo 30 x 21, 30 x 21, come misure. Come spessore abbiamo 6 cm circa, quasi 6 cm, no, 6 cm, sì, 6 cm abbiamo. I colori disponibili sono in bianco, come questo che stiamo vedendo, poi abbiamo questo verde senape, verde chiaro, o in nero. O in nero. O in nero. Il tutto viene spedito con Corriere SDA, per qualsiasi informazione mi potete contattare. E niente, un saluto alla prossima, ciao da Giuseppe.